Ciao ragazzi, benvenuti su Garstube Drums, è uscito padrone del tempo, il mio corso da 10 ore con più di 40 lezioni in cui vi spiego le caratteristiche fondamentali per un batterista. Vi lascio il corso, ve lo dico già subito, ve lo lascio qui sotto in descrizione ricordandovi che è al prezzo di lancio, quindi in sconto, ancora per pochi giorni. Cosa sono però le caratteristiche fondamentali che un batterista deve avere? Perché di solito pensiamo alla tecnica, alla velocità estrema, alla coordinazione estrema a fare tutte quelle cose super difficili, poi arriva un batterista veramente bravo, ci fa un groove in quattro quarti semplicissimo da prima lezione di batteria e ci asfalta e noi magari abbiamo studiato le cose super difficili e ci rimaniamo lì. Questo perché quel batterista sicuramente aveva il controllo completo, la consapevolezza e proprio l'appazzonanza di quello che stava suonando. Questo è il focus principale del corso. In pratica che cosa ho fatto? Ho deciso qua dentro di inserire anni di studio su questo concetto, per riuscire ad avere una mia personalità alla batteria, una mia creatività e un drumming solido che io suoni da solo, che io suoni con la mia band sempre. Ovviamente vi sto dicendo la mia personalità, ma questo non è un corso in cui vado a farvi vedere i miei leak, quelli che uso io vi dico copiateli, ciao. No, qui voglio proprio andare a fare un percorso in modo tale che ogni batterista possa creare la propria personalità sullo strumento. Quindi vi voglio portare subito all'interno del mio corso per farvi vedere tutto come è gestito, come è pensato, tutte le varie aree didattiche, tutto quanto devo spiegarvi un po' di cose. Quindi mando la sigla e ci vediamo tra 7 secondi più o meno. 6, 5. Come vi ho detto voglio quindi portarvi all'interno del corso e rispondere anche a un po' di domande che mi avete fatto. Se ne avete altre non esitate a scrivermi qui sotto, tranquillamente vi rispondo al volo. Quindi entriamo. Nel momento in cui accediamo a gastubedrums.it, perché è questo il sito in cui potete trovare il mio corso, vediamo questa prima pagina di padrone del tempo. Ovviamente qua c'è il countdown ma dipenderà dal momento in cui state guardando questo video. Comunque il video è in offerta di lancio fino a lunedì alle 23.55 e qua abbiamo tutto quanto quello che c'è da sapere. Molto importante questa cosa qua, cosa imparerai nel corso, per chi è il corso e perché padrone del tempo. Questa è una domanda, queste tre in realtà sono tre domande che mi avete fatto tantissimo. Per prima cosa parto da per chi è il corso. Il corso è pensato sia per principianti sia per batteristi avanzati. Può sembrare una cosa impossibile ma in realtà per come è strutturato la cosa fondamentale del corso è la velocità. Quindi se voi siete principianti e partite lentamente riuscirete a completare il corso. Se voi siete bravi batteristi andate un pochettino più su di velocità e vi servirà tantissimo. Se siete super batteristi tirerete al massimo la velocità e vedrete che vi servirà un sacco e comunque avrete un po' di difficoltà a riuscire a fare certi passaggi all'interno del corso. Quindi è pensato veramente a 360 gradi questo corso. Cosa imparerai in questo corso? Imparerai a posizionare le note giuste al momento giusto e non è una cosa scontata. Ragazzi ovviamente questione creatività e migliorare il tempo. Non per forza solo sul metronomo in quarti come siamo abituati a suonare perché il metronomo in quarti è noioso, è difficile eccetera ma in tanti modi. Aiutati dalle basi, aiutati dai metronomi sempre ma visti in chiave completamente diversa. Quindi c'è da divertirsi perché secondo me questa è la cosa importante, cioè bisogna studiare senza rendersi veramente conto di studiare, cioè divertendosi e soprattutto portando sempre le cose in modo musicale. Questa è la cosa veramente importantissima. Avete la prova gratis del corso nel senso che avete alcune lezioni gratuite e poi volendo se vi interessa potete switchare direttamente al corso completo. Quindi andiamo al corso completo che è questo qua e come potete vedere ci sono nove aree didattiche divise in capitoli. Partiamo dalla prima in cui c'è un'introduzione quindi in pratica in queste prime quattro lezioni che potete vedere qua c'è una breve introduzione su quello che è il corso e sulle cose importanti. Quindi introduzione, come seguire al meglio questo corso, lezione 2, l'impugnatura corretta in cui non vi voglio far vedere per forza metti il mignolo qua, metti il medio in questa posizione, ma voglio spiegarvi come intendere l'impugnatura per sentirsi potenti, che non vuol dire per suonare forte, ma per sentire di avere veramente la potenza nelle mani, per poter dire ok io voglio suonare questa cosa e so perfettamente che la suonerò nel modo corretto. Vi parlerò un pochettino del metronomo giusto per darvi un'infarinatura delle caratteristiche che deve avere il vostro metronomo, ma veramente poche cose che tutti potete avere. Qua invece cliccando qui vi apre la schermata del pdf quindi andando qua voi potete per prima cosa scaricare il pdf, eccolo qui, che è un pdf enorme da più di 110 pagine in cui ci è spiegato tutto. Qua c'è tutto l'indice dei contenuti con le varie pagine eccetera eccetera e poi si parte veramente, quindi sempre un po' di spiegazione e poi esercizi, esercizi, esercizi tutti con il range di bpm a cui fare questi esercizi, tutto quanto spiegato bene, capitolo per capitolo ovviamente questo in relazione a quello che c'è nei video, perché poi comunque i video ovviamente sono la cosa più importante, la cosa che vi fa capire meglio. Qua comunque avete tutti quanti, tutti quanti esercizi come vi ho detto sono più di 110 pagine in cui ci è spiegato veramente tutto, anche la questione di triggiatura, destra-sinistra, come dovete suonarli e tutto quanto. Andando avanti nel corso, quindi torniamo indietro, andiamo alla seconda area didattica in cui partiamo dalle basi, nel senso voglio partire proprio dagli ottavi e le terzine, che sono secondo me le due metriche fondamentali che ognuno deve conoscere, quindi ottavi e terzine. Quindi vi faccio vedere qualcosa. Ecco qua, qui è come vado ad esempio a suonare le pause, che sembra una cosa impossibile ma in realtà importantissimi. poi dopo questo andiamo sempre su pad a fare dei workout, quindi dei workout inizialmente solo di terzine o solo di ottavi e poi andando a mettere le metriche incrociate. Vedete che alla fine non è una questione tecnica in questo caso, ma è una questione di controllo proprio di quello che state facendo. Poi nel numero 3 metriche incrociate e poi ovviamente come al solito tutto quello che c'è in questo corso andiamo magari prima a farlo su pad per spiegare bene come funziona, ma poi deve essere tutto applicato alla batteria. Ad esempio vi faccio vedere direttamente un workout base che faccio sulla batteria andando ad analizzare i concetti di ottavi e terzine che ho visto sul pad. Quindi vediamo. Qui sto ottenendo un ostinato di cassa e rullante mentre il charleston si muove proprio per la creatività di cui vi parlavo prima. Il charleston va a fare ottavi e terzine. Quindi andando avanti questo è il workout diciamo base, fatto ad una velocità abbastanza elevata, poi ve lo faccio sempre a più velocità. Questo è lo stesso workout fatto a velocità diversa per capire bene come funziona, come fare a suonarlo più lento, suonarlo più veloce. Questo per quanto riguarda i groove, sempre lo stesso capitolo, applicazioni anche sui fill. Quindi sempre ottavi e terzine insieme. Quindi questa è l'area didattica delle basi di ottavi e terzine. Poi alcune cose possono sembrarvi difficili ma è una questione prima cosa di tempo metronomico e seconda cosa di tutta la spiegazione che c'è prima perché ovviamente vi spiego con calma ed è sempre tutto molto molto graduale. Nel terzo capitolo questo è secondo me importantissimo perché vi spiego come massimizzare lo studio al 100% di tutto questo spiegandovi qual è la differenza tra suonare gli esercizi o suonare una qualsiasi cosa sul metronomo o sulle canzoni perché una cosa che non vi ho detto perché mi sono dimenticato, cavoli, è che dove potete scaricare il pdf potete scaricare anche le basi e quindi i loop, le canzoni diciamo tra 70 e 120 bpm che vi possono aiutare per studiare tutti gli esercizi del corso, qualsiasi esercizio vogliate. Se appunto vi state rompendo le scatole di farli sul metronomo allora potete usare le canzoni. Qui vi spiego come. Poi nella seconda lezione vi spiego quanto è importante registrarsi e attenzione non come registrarsi non il fatto di doversi registrare per forza con mille microfoni nella scheda audio da 4500 euro ma vi spiego come registrarvi anche se non potete registrarvi. Dopo aver fatto questo, dopo aver capito qual è la vostra modalità di registrazione e vi do tre possibilità andiamo a vedere come controllare la nostra precisione in questa terza lezione. Quindi anche qua senza fare una lezione sui software ma spiegandovi come capire se state studiando bene se siete veramente precisi con qualsiasi software. Dopo questo esercizi di completamento che sono un po' quelli che vi ho fatto vedere nel video scorso quindi in pratica trattiamo di interplay qua perché secondo me l'interplay soprattutto nel momento in cui dobbiamo andare a suonare con una band è fondamentale, è importantissimo. dobbiamo riuscire a comunicare proprio con gli altri strumenti. In questo caso, in questi esercizi di completamento, vi faccio comunicare insieme a un'altra batteria. Infatti se noi andiamo ad aprire una qualsiasi lezione, ad esempio facciamo split fill in terzine split significa dividere, quindi dovremo andare a dividere i passaggi, i fill, tra noi e un altro batterista. Qui sotto avete tutte le basi scaricabili relative a questa lezione. Andiamo adesso a vedere come funziona. Sentirete che io suonerò delle note nei fill e poi ci sarà la base, cioè l'altra batteria che suonerà le altre note per riuscire a completare in modo giusto il mio passaggio. Quindi sentiamo groove, che sono da fare all'unisono i groove, mentre i passaggi. Sentite che il passaggio è stato fatto da me e l'altro batterista. Insieme completiamo perfettamente il groove. Questo è importantissimo perché dobbiamo andare a stare attenti a creare veramente il passaggio giusto senza l'uso del metronomo, perché qua non avete il metronomo, avete solo l'altro batterista che suona insieme a voi. Quando andate nella band avete magari un chitarrista, un bassista che suona con voi, non avete il metronomo, dovete fare riferimento a lui e lui deve fare riferimento a voi. Quindi deve essere tutta un'amalgama e in questo modo riusciamo ad amalgamarci bene tra due batterie. Ok? Quindi questo capitolo in generale si basa su questa tipologia di esercizi che secondo me sono super 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 divertenti perché appunto non è la solita roba sul suono sul metronomo te, 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 molto graduale. Quindi partiamo dagli esercizi di completamento abbastanza semplici in questa prima parte e poi nel capitolo 6 avremo esercizi di completamento parte 2 molto più avanzati. Quindi andiamo ad aumentare la velocità, a mettere i sedicesimi, a mettere le sestine, a mettere molte più note. Capitolo 5 invece off-beats. Raga, questo è il capitolo che a me ha aiutato di più da sempre. Quando ho dovuto studiare la perfezione sul tempo, questi esercizi qua mi sono serviti tantissimissimissimo. Partendo anche qua dal pad con un esercizio abbastanza semplice in cui suono ottavi e poi tutti gli off-beats, quindi il secondo e quarto o sedicesimo della quartina di sedicesimi, partendo da questo esercizietto sono andato ad applicarlo in mille modi. Quindi vi spiego l'esercizio, ve lo faccio vedere e poi vado a creare tutte le varie applicazioni. Qui la figata è che andiamo a lavorare sulla creatività nel senso che andremo a suonare man mano che studiamo questa cosa, molto più in levare. E suonare in levare significa suonare completamente diversi da come siamo abituati, avere idee diverse, avere idee più interessanti. Quindi questo è sicuramente un capitolo importantissimo. Andiamo a trovare un punto dove suono. Ah, ecco qua. Qui vi faccio vedere anche come suonare un certo esercizio su una base. Perché nel capitolo 3, dove vi spiegavo come massimizzare lo studio, vi spiego che appunto gli esercizi si possono fare su click, va bene, ma è noioso, ma si possono anche fare sulle basi. Qui sto facendo dei paradiddle fatti con note normali oppure off-beats. Quindi ci sono tantissime basi, quindi potete veramente dar sfogo alla vostra creatività su quale suonare. Poi andiamo avanti. Rendere amico il metronomo. Qui parlo di metronomo, ma come vi ho detto, voglio parlarvi di metronomo in modo diverso dal solito. Quindi vi spiego come fare a rendere il metronomo non noioso. In pratica vado a prendere il metronomo, gli dico non devi suonare così tu e lo vado a cambiare in mille modi diversi. Pensate che tengo sempre la velocità di 75, ma sembra sempre di suonare in modo diverso. Perché proprio vado a modificare la posizione del metronomo, la posizione mia sul metronomo, e vi spiego tutto bene anche, ovviamente, come farlo e poi per riuscire a improvvisare sopra, creare dei fill, creare dei groove diversi. Andando avanti, poliritmie. Qua andiamo a mettere le metriche insieme. Quindi andiamo a creare principalmente dei groove che non crea nessuno, raga, diciamocelo, che creano pochissimi batteristi, ma sono super utili per una questione di timing, per una questione di coordinazione, ma soprattutto per una questione che sono groove musicali. I groove tante volte sono un po' statici. Qua il groove diventa molto 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 musicale. Anche qua, come al solito, parto dal pad, vi spiego l'esercizio, e poi andiamo ad applicarlo in centinaia di modi diversi, dal semplice all'un po' più difficile. Qui, ad esempio, che è già verso l'avanzatino, vi faccio vedere un'applicazione, ad esempio, di questi esercizi. Sentite che la coordinazione qua è abbastanza difficile. Qua vi ho preso una cosa già abbastanza complicata. Ma, se vado ad esempio, che ne so, alla lezione 2, qui ci sono cose molto più fattibili, ad esempio, ottavi su charleston, quarti su rullante. Poi, quindi molto semplice, qui ottavi su rullante, mentre col charleston continuiamo a fare ottavi, anche lì. Poi, terzine su rullante come ghost. E poi andrò a fare i sedicesimi. Quindi vado a crearmi una mia piramide. Sentite. Per far sì che il mio groove sia diverso dal solito. Poi, ovviamente, questo è un esercizio, e non andremo a suonare un groove in questo modo, ma serve per darvi delle idee per suonare i groove in modo migliore. Infine, capitolo bonus. Questo anche, secondo me, è molto importante vedere qui. Qui vi do degli spunti, cioè ho preso degli argomenti che magari non avevano bisogno di un capitolo completo, ma sono importanti e quindi ho voluto portarveli all'interno di questo corso. Anche di questi, ovviamente, avete tutto scritto, PDF, eccetera. Nel second note exercise, cioè questo qua, avete le basi scaricabili, cioè dei metronomi molto particolari, ma praticamente avete ore e ore di basi su tutto il corso. E quindi, la cosa importante è che questo sarà sempre in aggiornamento. Quindi, tutte le volte che imparerò qualcosa di nuovo relativo a un argomento importante per la padronanza e il controllo, ve lo inserirò in questo capitolo qua. Quindi, vi ho spiegato tutto, non vi ho detto una cosa importantissima, cioè il fatto che sotto ogni video voi potete scrivermi un commento chiedendomi informazioni sulla lezione, perché ovviamente, comunque, il commento rimarrà sotto la lezione, quindi capirò subito di cosa state parlando. Potete chiedermi info, potete dirmi non ho capito bene questa cosa e io vi rispondo al volo. E quindi questo è. Vi ho spiegato tutto il corso, ovviamente, se avete qualsiasi tipo di domanda, scrivetemela qui sotto. Spero di avervi detto tutto, tutto, tutto quanto. Spero che questo corso sia di vostro gradimento. Non lo dico mai, perché forse gradimento è una parola che non dovrei dire, ma ve la dico lo stesso. Quindi, io vi ricordo che il corso è in sconto, ancora per pochi giorni. Quindi, mi raccomando, cliccate sul link in descrizione che vi riporta a gastrointrans.it se siete interessati. Io posso finirla qua, direi. Fatemi sapere cosa ne pensate di tutto questo qui sotto nei commenti. e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!